Eccoci di nuovo qui, questa volta parleremo di come fare piccoli guadagni con la stampata 3D per meglio dire con la capacità di saper progettare con il CAD e inizio così perché per la mia piccola esperienza che ho con la stampata 3D gli unici introiti che finora ho avuto sono appunto riguardanti alla mia progettazione col CAD poi i pezzi progettati li ho stampati e così sono riuscito a vendere praticamente i file 3D quindi i file STL o STEP Allora vi spiego tutto Qui siamo sul sito CALZ3D e questo sito è un sito come tanti dove poter pubblicare i propri progetti 3D per stampanti 3D chiaramente Ok, qui tutti appunto tutti quelli che fanno progetti cercano di proporre il loro progetto per essere scaricato e in più questo sito cosa fa? Cosa dà la possibilità di fare? Dà la possibilità all'utente che crea il progetto di far pagare il file 3D quindi se ho bisogno di un file 3D gratuito posso filtrarli e trovare quelli che mi possono piacere gratuitamente se io invece ho deciso che il mio file, chi lo vuole scaricare deve pagare dico quanto scelgo io, quanto voglio realizzare dal mio file 3D innanzitutto se decidiamo di far pagare un nostro progetto dobbiamo essere sicuri che vabbè non ce ne siano altri simili uguali e gratuiti perché altrimenti non avrebbe senso e poi li pubblichiamo su questo sito questo sito dà l'opportunità di avere una grande visibilità nel mondo e in effetti io ci ho provato quindi il mio primo progetto che ho pubblicato era questo inerente alle armi perché comunque ho pensato che siccome appunto è un mondo abbastanza di nicchia dove i componenti per le armi sono molto costosi pur essendo fatti anch'essi in plastica ho pensato appunto che potesse essere una buona soluzione iniziare a progettarmi degli accessori per la mia pistola e poi rendere disponibili allo scaricamento pagando appunto una certa somma andiamo alla sezione invece di vendita vediamo che tutti questi file dal febbraio 2022 ho pubblicato come vi dicevo appunto il primo mio progettino per la pistola e poi vabbè ho visto che comunque qualcuno l'ha scaricato allora pian piano me ne sono messo a progettarne altri e sono stati abbastanza apprezzati insomma questo è praticamente adesso siamo al primo di settembre e fino a luglio comunque ho avuto degli scaricamenti di componenti in questo periodo appunto ho guadagnato 70 euro è vero? cioè non voglio dire è nulla, è poco però insomma ho qualche piccola soddisfazione me la sono tolta anch'io e mi sono potuto comprare altre bobine di materiale per fare tante altre stampe il prezzo che voi decidete di far pagare l'oggetto il 20% di quel costo lì se lo prende il sito non è poco però effettivamente ha una buona visibilità quindi io sono rimasto soddisfatto allora altra nota è che prima di poter scaricare il denaro ecco, i pagamenti avvengono tramite Paypal quindi anche quello lì diciamo che è un altro vincolo non ci sono ad oggi non ho visto altri metodi di pagamento e di trasferimento soldi quindi gli utenti devono avere Paypal e noi dobbiamo avere un conto Paypal ok detto questo lo step successivo è che non possiamo scaricare quindi i soldi non vengono accreditati direttamente sul nostro conto Paypal dagli utenti ma cosa succede? quando un utente scarica il nostro file dopo 30 giorni quindi dopo un mese che perché il sito non so che verifica deve fare quello che è comunque dopo un mese di tempo i soldi vengono effettivamente tra virgolette bloccati ma restano sul sito quindi il sito impancia il nostro guadagno in quel momento lì fin tanto che non arriviamo almeno a 10 euro ok nel momento in cui arriviamo a 10 euro di guadagni sbloccati chiaramente quindi dopo che l'ultima persona sono passato un mese è arrivato a 10 euro possiamo chiedere appunto la richiesta di pagamento in questo caso cosa succede? vabbè chiediamo al sito guarda ho superato la soglia minima di pagamento che mi puoi esportare pagami e nel giro di qualche minuto o qualche ora comunque i soldi sono sul sono sul proprio conto Paypal se anche voi avete fatto dei piccoli guadagni con la vostra strampante a 3D fatemi sapere come le avete fatti che sono tutte cose interessanti e potrebbero servire appunto ad altri utenti che vedono i commenti grazie alla prossima